Musica No, solo una volta ogni tanto Ma la volta è sempre bella Quando abbiamo delle cose cose molto particolari, no? Quando abbiamo delle cose molto particolari Quando abbiamo delle cose molto particolari Ma tu hai detto che sei a casa? Tu stai bene? Sì, di solito sono a casa, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Stai bene, stai bene? Sì, stai bene Stai bene Eh? Bene Sì, io sì che sto bene, non lo vedi? Eh? E te? Eh, Massimo Eh, Massimo, eh Qua che è a casa, bisogna che Ti porta potenza Anche lui, lo sai, eh? Va bene Eh? Stavattina hai fatto colazione? Sì Sei andata in bagno? No Ah beh, adesso vedrai che ci vai, non ti preoccupare Ho guardo l'acqua citata, l'acqua tirata No, no, no Ah, no, no Devi dire di fare anche la bicicletta, hai capito, mamma? E stavattina lo lo secco Ah, va bene Puoi farla anche, lo so che a te non ti piace mica farla Però bisogna che la fai Eh sì Eh? Eh sì No, no Contraria Eh Eh Ciao Ciao Vedi, mi piace girare con queste A un minuto E con una mascherina Come stai? Voglio bene Anche noi Ahahahah Grazie a tutti.